buongiorno a tutti eccoci qua finalmente i fintinei hanno trattato il loro video e riusciamo a fare lezione della GRP Bike Academy il sole era ora ragazzi prima lezione con la pioggia la seconda andiamo a provare il percorso di oggi vediamo un po' cosa abbiamo creato per i nostri bambini poi si entra qui nel Temenos che è il luogo sacro e Ando ci ammazza si fa la tecnica di curva spostando bene il peso e poi si esce dalla curva e poi si sale sulla rampetta e poi un bel trapezio un trapezio come ti ammazzo un bel saltino e via bravo bravo dai grazie a tutti 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 Grazie a tutti